Genshin Impact, nonostante sia un titolo gratuito, è dotato di tante funzioni supplementari che possono arricchire la vostra esperienza di gioco, per esempio la Serenteiera, in inglese Serentipot, è un regno di gioco liberamente personalizzabile dal giocatore, con un proprio sistema di livelli e tantissimi arredi da craftare e andare a collezionare. Oggi vediamo una guida appunto sulla casa in Genshin Impact. Per riuscire a sbloccare la Serenteiera per la prima volta è necessario avere soddisfatto alcuni requisiti, quindi aver completato la missione del Archon di Liu capitolo 1 atto 3 intitolata una nuova stella in arrivo, poi aver raggiunto almeno il grado 35 dell'avventura. Fatto tutto questo dovrete recarvi a completare la missione chiamata Teiera Dolce Teiera parte 1 che la trovate a Liu e dovete andare a parlare con Madame Ping, la quale vi donerà la Serenteiera da portare sempre con voi all'interno del vostro inventario. Per riuscire a entrare quindi ad accedere alla vostra casa dovete semplicemente aprire la mappa, andare a cliccare sulla stella in basso a destra per riuscire a aprire il menu rapido a tenda e quindi dopo cliccate sulla Serenteiera. Se uscite dal gioco mentre siete all'interno della Serenteiera al prossimo log vi ritroverete nell'ultimo luogo dove vi siete teletrasportati. Al vostro primo accesso alla Serenteiera vi verrà richiesto quale reame preferite decorare per primo, però non dovete preoccuparvi a fare questo tipo di scelta, infatti potrete andare a sbloccare tutti i reami in maniera totalmente gratuita. Insomma vediamo quali sono, sono la dimora sospesa, il picco smeraldo, isola fredda e il cortile di seta. Dunque la voluta per acquistare praticamente ogni bene nella Serenteiera sono le monete del regno, queste sono ottenibili solo all'interno della sesta Serenteiera, alcune potreste magari ottenerle andando a fare gli eventi speciali sul sito o ioverse, ma questo magari è una cosa abbastanza rara. Dunque una volta arrivati dovete andare a parlare con tonda e accedere alla sezione grado di fiducia, in basso vedrete un contenitore dorato. Questo si va a riempire dopo un determinato numero di ore, proprio come monete del regno che potrete poi andare a riscattare. Il numero di monete deriva dal Adeptal Energy, cioè dalla quantità e qualità di arredi posti nel vostro regno, da un minimo di 4 ore di accumulo fino a un massimo di 30 ore. Sempre nel grado di fiducia di suoi libri dialogando con tonda troverete i livelli della Serenteiera, sono 10 in totale che terranno il conto dei vostri progressi nello sviluppo del regno. Ogni livello richiederà il completamento di determinate missioni per essere poi superato. Si parla solitamente di accumulare per esempio monete del regno, acquistare o craftare diversi arredi e completare i progetti dei set. Il completamento di ogni livello vi darà diritto a ben 60 primo gemme e altri interessanti premi, come più spazio decorabile con un massimo di 4 aree diverse, aumenti della capienza della giara, della ricchezza e dell'amicizia accumulabile, nuovi arredi e ulteriori riami e un maggior numero di oggetti acquistabili periodicamente. Ogni volta che dobbiamo interagire, fare qualcosa all'interno della nostra teiera, dobbiamo andare a parlare con tonda. Infatti grazie a lei riusciremo a craftare diversi oggetti. Ricordo che alcuni oggetti saranno solamente acquistabili e altri potranno essere solamente craftati. Addirittura alcuni potranno essere nascosti nel mondo di gioco, ma questo magari lo vedremo con qualche altro video. Ottenuti i progetti di arredi bisogna per la prima cosa impararli cliccando usa dopo averli cercati all'interno del nostro inventario. Come potete notare, una volta che abbiamo parlato con tonda, il funzionamento delle creazioni è molto semplice. Qua sulla sinistra trovate tutte le ricette, ovviamente quelle appena apprese avranno la scritta nuovo. Qui sotto invece troverete i vari materiali che servono per andare a craftare. Vedete questi qua, tipo legno e qui c'è una pozione rossa. Funziona come il normale crafting, poi per quanto riguarda le pozioni quelle rosse le trovate in alto come i concini, le potete andare a craftare direttamente. Dunque ora facciamo un esempio che dobbiamo andare a craftare questo scaffale. Vedete ci serve questa pozione. Andiamo qui, clicchiamo ed eccola qui. Per farla ci serve questo frutto, la stoffa la facciamo con dei fiori, questo con le bacche e questo con altri tipi di fiori. Insomma ce l'abbiamo già e quindi andiamo a fare un quantitativo necessario per andare a fare il nostro mobile. Dunque clicchiamo su crea e andiamo a farlo. Eccolo qua, in realtà ne ho fatto soltanto uno, avevo scritto 5, adesso lo vado ad aggiungere, li vado ad aggiungere, ecco allora. E così ne abbiamo fatti 6 in totale. Quindi a questo punto possiamo fare tranquillamente perché tanto il legno l'avevo già raccolto e quindi possiamo andare a farci questo mobilio. Qua non c'è nessun bonus, almeno io al momento non ho un personaggio che mi regala un bonus, quindi vado a metterlo uno qualsiasi e vado a crearlo. Vedete che comunque il crafting questa volta a differenza degli altri presenti all'interno del gioco è molto lungo. Si può anche andare a dimezzare questi tempi ma bisogna acquistare una boccetta che sinceramente credo che la dovrebbe vendere, forse tonda ma in questo momento non ne sono proprio sicura. Comunque e quindi ci serviranno ben 13 ore 59 minuti per fare questo oggetto. Dunque sì perché qui abbiamo il negozio del regno e la fiala per aumentare la velocità di crafting è acquistabile all'interno qua, vedete, con le monete che fate qua del regno. Dunque il negozio di tonda che viene chiamato negozio del reame ha dei prodotti che si aggiornano ogni settimana e altri sono acquistabili invece in quantità limitata ogni giorno e altri ancora invece possono essere acquistati una sola volta. Dunque all'interno di questo negozio troviamo diverse cose molto interessanti. Dunque possiamo comprare dei progetti, c'è da dire che ci sono vari progetti che ci permetteranno quindi di fare degli arredamenti, dei set di arredamento e quindi sono acquistabili come potete notare tramite sempre questa moneta. C'è da dire che ogni personaggio che abbiamo avrà un progetto preferito quindi quando andremo a mettere questo oggetto, questo craftare, questo set e avremo anche il personaggio ci regalerà 20 primo gemme. Ci sono anche dei semi da poter andare a piantare quindi sempre acquistabili all'interno del negozio. Qui invece possiamo andare a replicare la nostra casa e quindi anche andare a replicare la casa di alcuni giocatori tramite l'ID. Dunque ora andiamo all'interno della nostra casa e vediamo come andare a posizionare gli arredi che abbiamo appena craftato. Dunque una volta che entriamo dentro dobbiamo semplicemente andare qui dove c'è la manina. A questo punto vedete che uscirà un nuovo menu dove troveremo tutti gli oggetti da andare a collocare all'interno della nostra casa e basterà semplicemente andarli a spostare. Qua una volta posizionati sulla destra abbiamo un nuovo menu che ci permetterà di andare a ruotare l'oggetto e quindi poi una volta sistemato andarlo a salvare. Ora vedete che è rosso quindi non va bene lì posizionato. Ecco quando è azzurro possiamo andarlo a confermare quindi si posizionerà in quella posizione. Qua trovate un po' tutti gli accessori, gli arredi eccetera. C'è anche una voce molto interessante da andare ad analizzare ed è quella dei compagni. Dunque tramite questa funzionalità possiamo andare a instaurare delle relazioni amichevole con i nostri personaggi quindi sarà possibile invitarne fino a un massimo di 8. Dunque poi una volta posizionati vi basterà entrare in modalità decorazione e scegliere nella sezione compagni chi volete piazzare nel vostro regno. I personaggi saranno così posizionati e saranno effettivamente presenti nel punto in cui li avete collocati. Dunque in questo modo i personaggi che avete appena posizionato saranno effettivamente presenti e potrete quindi praticamente parlare con loro e fare alcune chiacchiere. In questa maniera come vi dicevo prima andremo ad aumentare le relazioni amichevoli. Ogni tanto vedrete apparire alcune nuove conversazioni che sono poi scritte in giallo quindi in questo caso potrete attivare nuove conversazioni. Dunque questo è in grandi linee un po' tutto il funzionamento della nostra casa. C'è anche dire che se vogliamo possiamo andare anche a visitare le serenteiere dei nostri amici. Se siamo a Teyat per esempio possiamo richiedere l'accesso alla serenteiera di un nostro amico semplicemente cliccando sulla sua icona all'interno della lista amici e selezionando poi richiedi accesso alla serenteiera. Quindi così possiamo andare anche a vedere magari le case dei nostri amici. Ok per oggi abbiamo concluso qui e vi ringrazio di aver visto. Come sempre mi invito a mettere un bel mi piace e farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!